Il commissario cittadino della Lega dei Popoli, noi con Salvini, Arialdo Giammusso, che è anche un imprenditore della zona industriale di Caltanissetta, lamenta il fatto che non può esserci un reale sviluppo nella zona industriale e in città in generale, perché ad esempio le strade sono talmente dissestate che è impossibile per chi viene da fuori arrivare tranquillamente alla zona industriale. Chiaramente non si può fare l'impresa in una città nella quale la mobilità è gravemente compromessa. Noi abbiamo gli accessi alla zona industriale che sono delle vere e proprie trazzere, se fate la strada che conduce alla Bratella, che collega alla SS 640, troverete un dislivello, quasi un gradino di circa un metro. Questo danneggia notevolmente sia i mezzi che le merci trasportate su questi mezzi, quindi con un salto del genere la merce sicuramente è costretta a subire dei danneggiamenti. Per raggiungere Caltanissetta bisogna aver frequentato un corso di via, di uscita dai labirinti. Quando abbiamo dei cavalcavia, dei viadotti completamente dissestati, c'è anche questo sulla 640 che presenta delle crepe molto preoccupanti, io temo che a breve potrebbe addirittura essere chiuso. Quindi noi ci troviamo in una situazione nella quale bisogna fare impresa, però è difficile raggiungere le imprese. Quindi chi fa l'imprenditore nella nostra realtà, l'ho detto in un comunicato, è o un eroe o è un pazzo. E per quanto riguarda i trasporti nel complesso regionale? La Sicilia dal punto di vista dei trasporti è diventata veramente impossibile. Se voi considerate che dai nostri porti non è possibile imbarcare della merce per andare direttamente all'estero, mi spiego meglio, se tu vuoi inviare un container all'estero con delle merci prodotte in Sicilia, devi per forza caricare a Palermo o Catania, a Catania in questi porti attraverso delle navi che si chiamano feeder, la merce viene portata in un altro porto italiano che potrebbe essere Genova o Gioia Tauro o Salerno e da questi porti viene caricata nuovamente su delle navi che fanno le consegne all'estero. Quindi voi immaginate sia la perdita di tempo che occorre per consegnare le nostre merci, che il rischio di ritardi notevoli nella consegna delle merci e quindi i clienti che sicuramente solleveranno delle contestazioni per i nostri ritardi. Quindi siamo penalizzati col trasporto navale. Il trasporto su strada è sotto gli occhi di tutti, quindi Caltanissetta è quella che doveva essere, che prima veniva considerata come una città centrale della Sicilia, dalla quale era più facile, era più conveniente, nella quale era più facile e conveniente lavorare. Questa centralità si è rivelata nel corso degli anni, in questi periodi, una centralità isolata, cioè noi siamo totalmente isolati. Abbiamo perso anche il trasporto intermodale, cioè il trasporto su ferrovia. Qui a Caltanissetta non esiste più la possibilità di trasportare le merci sui ferrovia.